Hanno attraversato la storia, il mito, la letteratura e sono arrivati fino ai giorni nostri. I cavalli, animali di affezione e benessere, regalano all'uomo un legame intimo ed empatico difficile da costruire con qualsiasi altra specie. Per questo motivo abbiamo deciso di raccontare la storia di Fabio Langeloni e del suo amico equino a quattro zampe dal nome Fulmine, che si trova nel maneggio Franco Sorsa a settimo di Montalto Fugo, a pochissimi passi dal centro abitato e che ha lo scopo di regalare del tempo e delle emozioni a tutti gli amanti degli animali. Andiamo a conoscerli! Ci troviamo oggi in questa bellissima realtà, non molto distante dal centro cittadino, in una bellissima giornata soleggiata. Abbiamo il piacere di fare la conoscenza sia di Fulmine che la tua conoscenza. Avresti piacere di raccontarci come ti è nata questa passione, magari la tua storia. Io immagino che sin da bambina tu comunque coltivavi questa passione. Sì, sì. Allora, io mi chiamo Fabiola, ho 20 anni. Sì, fin da piccola ho sempre amato i cavalli e il mondo comunque dell'equitazione. Ho deciso di comprare Fulmine durante il periodo di lockdown perché diciamo che per motivo magari di noia e quant'altro. E poi per questa grande passione i miei hanno deciso di regalarmi Fulmine. Immagino che sia stato un bellissimo regalo, soprattutto in periodi di lockdown. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Tra di noi ovviamente c'è un bellissimo rapporto perché come sapete comunque i cavalli sono degli animali sensibili, ma soprattutto c'è un approccio emotivo grandioso. Comunque è una passione che veramente io consiglio di far crescere a tutti, di coltivare questa passione se c'è pure una minima. E comunque è una cosa veramente bella perché i cavalli hanno questa possibilità, hanno proprio questo potere. Questo potere di prendere emotivamente, diciamo, anche perché sin da tempi, da tempi remoti, ecco, i cavalli sono sempre stati molto vicini agli uomini. Sì. Volevo chiederti una cosa, io so che tu sei una studentessa e che non vivi qui, quindi dividi il tuo tempo fra Roma e Cosenza, ecco. Sì, allora io sono una studentessa fuori sede, studio a Roma e diciamo che questa lontananza ha un po' intaccato sul nostro rapporto, però comunque ogni volta che ritorno fulmine, cioè sempre lì, è pronta ad accogliermi ed è pronta, ecco, ed è pronta sempre a coccolarmi. Però comunque la lontananza ovviamente ha il suo impatto. Infatti penso non sia semplice gestire le due cose, ecco. No, assolutamente no. Tra Roma, Cosenza, i viaggi, la distanza anche emotiva perché sei una passione che coltivi da tanto tempo. Sì. È una distanza emotiva ma soprattutto il cavallo, diciamo, ha bisogno proprio di tante cure, di tante cure, quindi sia comunque costose che comunque impegnative. È un cavallo comunque molto impegnativo, però comunque con tutti i suoi approcci e con tutto quanto è abbastanza ripagato questo lavoro. Ma è un cavallo che viene utilizzato, diciamo, anche se è brutto il termine, soltanto per una passione oppure comunque fa anche dei concorsi, partecipi insieme a fulmine ad alcune gare? Sì, 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 abbiamo partecipato ad alcune gare, però ovviamente la passione è comunque quella che vince tutto, a prescindere dai risultati comunque delle gare e quant'altro. Invece stavamo dicendo prima che dal punto di vista emozionale sono degli animali che riescono a dare tanto all'uomo, quindi si crea proprio un rapporto quasi simbiotico. Sì, 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 assolutamente sì, perché comunque il rapporto, come dicevamo prima, è un rapporto, cioè, veramente incredibile. Cioè, solo pensando che comunque loro vengono utilizzati come animali per qualsiasi tipo di cure, a partire da comunque sindrome di Down, oppure... Oppure, sì, 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 cioè, i cavalli vengono considerati proprio come degli animali veramente utilizzati per terapia e quant'altro, quindi sono degli animali veramente fantastici. Giusto? Come mai vi è venuta in mente l'idea di intraprendere, diciamo, questa realtà che è bellissima, ma a pochi passi dalla città? Allora, a pochi passi dalla città, diciamo, più che altro pure un fattore di comodità e quant'altro. Però senza dubbio la natura, diciamo che è per il cavallo, cioè, è la cosa più bella. E poi comunque è sempre un aspetto anche, cioè, un aspetto anche comunque, vedere il verde, vedere comunque, cioè, vedere lui che comunque sta libero nel verde, nel fa passeggiata e quant'altro. È anche per lui stesso comunque un fattore di rilassamento e quant'altro. Cosa ti senti invece di consigliare, ecco, alle persone che vorrebbero proprio intraprendere la strada dell'equitazione? Magari ci sono bambini che fanno tantissimi tipi di sport, ma è difficile che si approcciano a questo mondo. Allora, io come ho detto prima, consiglio a tutti coloro, a tutti quelli che hanno la passione, diciamo, del cavallo, di seguirla tranquillamente e di comunque farne veramente una grande opportunità. Perché veramente è una cosa incredibile. Poi ti soddisfa veramente tanto. Ma fin da sempre è stato un animale pregiato. Sì, sì, sì. Giusto, cioè, solo a pensare che prima veniva considerato come mezzo di trasporto. Esatto. È quello di abbandonare gli stereotipi in cui questi magnifici mammiferi sono relegati da millenni e lasciarci emozionare da essi, imparando a regalare amore e libertà.